Siamo sul lungomare di Pescara e questo il tombino dove ieri sera purtroppo c'è stato un incidente che ha causato la morte di un cane e il ferimento anche se fortunatamente in modo non grave di un 34enne che è stato ricoverato in ospedale e che è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Vice sindaco Brasioli, lei subito questa mattina è venuto qui per fare questo sopralluogo anche con i tecnici del comune? Più che con i tecnici del comune che pure sono presenti con Pescara Energia e che non è nel sole che hanno in gestione la pubblica illuminazione di Pescara. Da loro abbiamo richiesto subito una relazione dettagliata per questo che ci sembra un fatto grave che è successo a Pescara, ci stanno già spiegando adesso con un piccolo sopralluogo e anche con la scopertura di questo pozzetto quello che potrebbe essere successo. Dobbiamo capire bene soprattutto perché in una serie di coincidenze il differenziale non ha funzionato. C'è stato questo animale che è rimasto folgorato, questa persona che è rimasta ferita, si è rischiato tanto però ieri sera? Sì, si è rischiato tanto. Perché c'era tanta gente, mi scusi, vice sindaco Brasioli, a passeggio nella serata di Ferragosto lungo la Riviera? Sì, da quello che mi spiegano pare che ci siano state una serie di coincidenze che difficilmente potrebbero riverificarsi, però ecco noi dobbiamo stare veramente molto attenti a fare in modo che questo non si possa più verificare. Ecco perché già da questa mattina alle 8 siamo sul posto, stiamo cercando di capire bene che cosa può essere successo soprattutto da loro e con loro dobbiamo andare a fondo su tutta quanta la vicenda per cui abbiamo chiesto questa relazione per capire bene la situazione. Ci dispiace naturalmente sia per questo ragazzo, che credo sia un ragazzo di 34 anni, adesso non conosco neanche chi sia, sia nei confronti di questo cane che purtroppo ha perso la vita. Naturalmente ci scusiamo con questi turisti che credo non siano pescaresi ma di Roma, da quello che mi dicono. Insomma, tutte le responsabilità verranno accertate, ma soprattutto quello che dobbiamo garantire alla cittadinanza è che situazioni come queste non si possono più verificare. Ripetiamo, sono una serie di coincidenze ma faremo di tutto per verificare nel giro di 24 ore ogni situazione se c'è bisogno anche di segnare eventuali pericoli. Lei non era qui ieri sera però le hanno raccontato poi quello che è accaduto anche perché i suoi colleghi dello stabilimento sono usciti fuori. Sì, a me e i miei fratelli mi hanno raccontato perché poi ieri mi hanno chiamato di quello che è successo e siccome il mio stabilimento, come tanti altri, è affollatissimo di bambini, io mi chiedo semplicemente una cosa e se ci fosse stato un bambino cosa sarebbe accaduto? Nulla a togliere perché ho il cane quindi per me è sempre una tragedia però se ci fosse un bambino, un bambino piccolo con la mamma o un passeggino, cosa sarebbe successo?